Allora, Laura Chiossone, questi genitori single sono tutti così ansiosi e disastrosi o se ne salva qualcuno? Non sono io i genitori single, diciamo i genitori in toto, ma io parlo per me stessa, nel senso che il film è un po' un riflesso delle mie ansie. Probabilmente, come dicevo prima in conferenza stampa, ho fatto un po' un parterre di tutti i miei difetti, dividendoli per i vari personaggi. Perché in effetti, diventando genitore, ti rendi conto di quanti errori puoi fare, sia con i figli, ma questa è storia vecchia, sia con gli altri genitori. Perché ti ritrovi in gioco, ti ritrovi con dei compagni di classe. Non so a voi come andava a scuola, io facevo fatica, avevo paura del giudizio degli altri, avevo paura di non essere accettata, di non essere abbastanza simpatica. Al tempo stesso avevo voglia di affermarmi e di dire chi ero. E un po' mi è ricapitata la stessa cosa diventando genitore. E sì, secondo me quello che succede un po' a tutti quanti è che tendiamo a vendere una facciata di noi stessi, un po' semplice. E che tendiamo, nella paura di essere giudicati, a giudicare costantemente gli altri. Ecco, nel film ci siamo divertiti a far esplodere questi giudizi in maniera catartica per liberarcene un po'. Invece Lucia Mascino interpreta un'Ilaria che è una madre perbenista, bonista, che però ha anche un filo di ipocrisia poi alla fine. Come avete equilibrato con la regista, con il suo personaggio? Io purtroppo non riesco a dare aggettivi negativi ai miei personaggi, per cui adesso bonista faccio un po' fatica. Però effettivamente è una donna che si basa... Cioè abbiamo lavorato insieme sull'idea di costruire una persona intanto che possa esistere sul pianeta Terra, e che abbia delle ragioni per essere così e che più che buonista, cioè che voglia sposare il bene, in questo senso. Voglia che il bene vinca sempre e che quindi si illude che è possibile che il bene vinca sempre se tu fai la ricetta giusta delle cose. Cioè se tu ti comporti così, 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 vedrai che allora questa, siamo nello schieramento del bene. Il problema è che le cose sono molto mescolate e quindi anche lei si trova che nel suo schieramento del bene gli si infilano, diciamo, degli inquinamenti. Come abbiamo lavorato insieme, cercando di renderla più complessa, forse non lo so, come l'abbiamo lavorata. Io mi ci sono buttata dentro con divertimento, nel senso che mi ricordo già dal primo istante delle prove tutti insieme, che giocavo con Paolo Calabresi, che fa mio marito Aldo, e nel modo in cui stavamo insieme, è un po' nella saccienza, eccetera, diciamo è nato istintivamente il carattere. Poi invece l'abbiamo così un po' scolpito da dentro. È fatto emergere anche la parte invece meno ipocrita, se vuoi, meno di facciata, è quella più dolorosa, è quella più vera ed esplosiva. Invece il tuo personaggio è molto più evanescente, come è stato interpretarla e soprattutto lei ha anche dei punti drammatici. Com'è stato mettere quei punti drammatici all'interno di questa evanescenza? Beh, diciamo che mi sono legata molto a un evento che non posso dire, perché non posso svelare le cose che accadono nel film. Quindi mi sono legata al fatto che questa donna, che usa il proprio abbigliamento, il proprio look, come una maschera, e che usa la sua indipendenza e comunque espone molto il suo modo di essere e usa molto il fatto di essere indipendente. È una donna sola che lavora, che ama il suo lavoro, che vuole essere donna e non solamente madre, eccetera. Ha invece un grande bisogno di amore, quindi diciamo il dramma per me nasce da quel bisogno d'amore che è inespresso e che manca però. Invece ho notato insomma che avete lavorato con tanti bambini. Di solito lavorare con i bambini si dice che è la cosa più complicata in un set e mi sembra che sono stati tutti quanti perfettamente orchestrati. Come vi siete trovate ognuna poi con il proprio bambino, con questi piccoli attori? La bambina mia e di Aldo, diciamo, di Ilaria e di Aldo, Sole, è una bambina silenziosissima, che fa ginastica artistica molto brava, fa delle gare nazionali, quindi è abituata alla disciplina, una grandissima disciplina e quindi addirittura è una bambina che andava quasi spronata nel buttarsi, non tanto a interpretare, ma proprio il contrario del bambino cacciarone che rende difficile, era estremamente attenta a quello che gli dicevi faceva, quindi era facilissimo relazionarsi con lei, molto carina, molto simpatica pure la madre, cioè non c'è stata nessuna difficoltà e insomma io mi sono trovata benissimo. Io con mia figlia ci siamo proprio riconosciute, trovate immediatamente e lei era così dentro al lavoro che faceva, così dedita alla recitazione, che era come avere un acting coach di fianco, cioè lei mi riportava alla situazione, era sempre sul pezzo, quindi anche io, non è che poi avessi tantissime scene con lei, ma lei c'era, se io la incontravo in giro per... Vero, era lo specchio del tuo personaggio. Lei continuava a recitare, cioè lei mi dava continui input, anche mentre la macchina da presa non andava, forse io vorrei portarmela sempre dietro. Ecco, il vantaggio era questo, che avendo ogni bambino un attore, genitore, si facevano un po' da tutor a vicenda ed in effetti, sì, perché poi appunto i figli sono il nostro riflesso, il nostro specchio o la nostra forma di esibizione sociale e quindi anche sul set in effetti ogni gruppo familiare con il proprio attore bambino si aiutavano a vicenda in una forma di tutoring con due tecniche di lavoro diverse, il bambino lavorava, i bambini sono stati scelti perché erano vicini ai personaggi, chiaramente, come carattere, e gli attori invece lavorando con la tecnica. Grazie a tutti!